Si chiama Luke Anoman, è un uomo di 28 anni di età, papà di due bambini e le originali di Birkdegel a Sopport. Pensate che gli è successa una cosa davvero che ha dell'incredibile. L'uomo infatti avrebbe strappato una pellicina al lato di una uglia e rischierebbe la vita, rischierebbe la esistenza per colpa del fatto che si sarebbe venuto a creare una forte infezione. Una forte infezione che avrebbe in qualche maniera contagiato, ma il compromesso, già l'esistenza dell'uomo in questione, papà di due creature. L'uomo in buona sostanza si sarebbe staccato la pellicina dal dito di una unghia, ma quelle che in genere vengono nel momento in cui, se non erro, ci si asciuga malamente le mani e le mani rimangono tra virgolette bagnate. L'uomo avrebbe tolto la pellicina e purtroppo si sarebbe creata la infezione in questione. E adesso rischierebbe la vita, povero l'uomo, povero ragazzo. Una storia davvero che ha delle incredibili, quella che ci giunge dal Regno Unito che ha per protagonista, ripeto, Luke Hanuman o Hanuman. Questo dunque sarebbe quanto. Un saluto e al prossimo video da Narratore Italiano.